Lo Stato vuole esserci, lo hanno ribadito questa mattina il capo della protezione civile Borrelli e la commissaria alla ricostruzione De Micheli. Questo il loro messaggio per le popolazioni del cratere. Il messaggio alla popolazione è quello ovviamente di avere pazienza e quindi purtroppo la situazione è questa e non si possono fare ovviamente previsioni sul terremoto. Questo è il messaggio. Sono attive tutte le misure di assistenza alla popolazione previste dall'emergenza, contributo di autonoma sistemazione, la possibilità di andare negli alberghi perché la Regione Marche ha già riattivato la riapertura degli alberghi, eventuali disponibilità di alcuni campi container che sono stati chiusi già da mesi ma che se dovesse esserci la necessità potranno essere riattivati. E poi la parte più importante è l'assistenza psicologica alla popolazione perché è del tutto evidente che l'effetto peggiore della scossa di stamattina è il fatto di aver seminato il panico per questo protrarsi continuo prima di piccole scosse e poi di questa scossa che si è sentita tanto forte. Poi abbiamo dedicato qualche minuto durante la riunione con i sindaci anche a puntualizzare quelle che sono le esigenze di miglioramento del Decreto 189, le norme di cui peraltro avevamo già parlato proprio qui a Pievetorina e a Camerino venerdì scorso, sono state ribadite tutte, sono quasi tutte pronte. Io farò di tutto insieme a tutti i gruppi parlamentari con i quali condividerò queste norme per metterle nelle disponibilità del prossimo governo non appena sarà insediato. Parliamo di norme sugli abusi, parliamo della questione del cratere e del fatto che esiste una zona del cratere più danneggiata di altre, parliamo delle norme relative alla cassa integrazione in deroga e di altre norme di semplificazione. Credo che la riunione di stamattina comunque abbia confermato che c'è tutta la disponibilità a fare tutto quello che serve con i tempi giusti perché noi dobbiamo garantire sicurezza. Le persone devono sapere che anche se qui continua a muoversi la terra, devono sentirsi in una condizione di sicurezza. È questo che noi stiamo facendo.